Siamo arrivati alla settima edizione di questa rassegna noto-oliveriana organizzata dall'Entolivieri. Quest'anno è un'edizione un po' speciale, un po' particolare perché prevede ben cinque appuntamenti e la particolarità più interessante è quella che inizieremo in anticipo rispetto al nostro solito, inizieremo cioè domenica prossima perché siamo stati coinvolti dall'amministrazione comunale anche nella festa della musica e quindi inizieremo appunto domenica sera con il primo concerto e poi ci saranno altri quattro appuntamenti che saranno tra l'11 luglio e il primo di agosto. Come al solito le nostre note oliveriane sono state immaginate e anche realizzate pensando sempre a una sorta di contaminazione tra le varie forme artistiche di rappresentazione del pensiero quindi sicuramente la musica, è da qui il nome note appunto, ma non solo la musica ma anche altre forme appunto espressive che vanno dai nostri documenti, quindi note scritte e anche altre testimonianze e documentazioni che sono presenti comunque nel nostro patrimonio. In tutti i concerti infatti ci sarà questa convivenza diciamo così tra le esecuzioni musicali che saranno molto diverse che andranno dalla musica jazz per la musica antica, la musica pop, la musica anche innovativa in un concerto particolare del 26 di luglio e quindi una varietà di musicali molto diciamo molto grande che verrà sempre comunque accompagnata appunto da letture e descrizioni dei nostri documenti e rappresentazioni anche visive dei nostri documenti. Il 23 giugno si parte con Antonio Felicioli in arte, Tony Felicioli, grandissimo flautista, saxofonista l'avrete visto certamente anche in tv perché segue Marco Re, segue la Mannoia e tanti altri musicisti verrà con una band formata da sette persone ma queste altre sei persone che sono con lui grandissimi professionisti ma usano la musica come hobby e non come professionismo. All'interno per esempio c'è Scocco che è un grandissimo bassista, lui fa le chiavi per le fisioarmoniche. Il chitarrista per esempio è uno degli chirurgo endovascolari più famosi al mondo che è Emanuele Gatta. La storia musicale che praticamente è un tour, è un tour che parte dai Caraibi, arriva a noi, arriva a noi attraverso Mendez, attraverso Harvey Hancock, attraverso Petrucciani ma arriva anche in Italia.